simpatico perché mettevo in pratica quello che ho detto adesso lo mettevo in pratica mi riusciva e poi sai allora io sono stato tacciato come il cattivo lo sapete che io sono il terzo catalogato al mondo come calciatore più cattivo solo perché ha fatto male a maradona io ero risentito mi ero impegnato a tentare di essere il primo non ce l'ho fatto non ce l'ho fatto però non ho mai avuto un'espulsione dal canto non ho mai avuto un'espulsione io non era cattivo sapeva farlo bene non lo so neanche io ero istintivo ero molto istintivo naturale spontaneo soprattutto noi la ringraziamo per questo ragazzi siamo contentissimi di averla incontrata è stato un piacere sia per noi anziani perché si c'è 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 c'è